E lui aveva questi tre cagnoni, dei grizzi con dei colli, io mi cagavo sotto, ogni volta andavo agli allenamenti mi pregavo, e poi se ne prese altri due, Raissa e Mikael, ok? Cosa fece con questi? Lui aveva questa caratteristica, anche dai sordienti, cioè ai 11 anni, 12 anni, lui non sopportava le ingiustizie arbitrali, per cui tendeva a chiudere gli arbitri, che poi erano dei ragazzini dei 16 anni, dentro lo spogliatoio con i cani fuori. E questo una volta è stato scoperto, diciamo, e questo ha implicato delle sanzioni. Anche un anno per cane pastore, giusto?